Andora si è calata nel Giro d'Italia, nella grande carovana fin dal mattino, Sindaco Moro De Michelis, il centro ha cambiato volto, qui è diventato ormai tutto un grande villaggio dedicato al Giro. È una grande opportunità per il nostro territorio, fra pochi minuti inizierà questo villaggio del Giro, invito tutti gli appassionati a visitare gli stand, come vedete qui c'è RTL che trasmetterà tutto il pomeriggio, poi c'è credo qualcosa di importante anche sul litorale perché non solo avremo il Giro d'Italia ma alle ore 15 avremo il Giro E, poi ci sarà la carovana del Giro e alla fine naturalmente l'arrivo dei corridori che chiuderanno questa bellissima giornata.